come sia reale ragazzi controllo 9 questo è uno schifo invece va bene posso dire ove lo dico perchè sono munita con poco da dare ottimo muo' riesci in carta a tucca a tucca se vuoi venire o guarda questo mannino la pancia di mano lo ti ha fatto anche per ultimo no ma l'ha parato con la testa l'ha parato di testa di stepperaino che roba gesto è un predico incredibile